Mi sentono? Ciao Barbara, siamo qua in diretta a One Rock con due ospiti speciali Barbara Duzzo Ciao Presidente Con Maria De Filippi, buonasera Maria Buonasera E Maurizio Costanzo Buonasera Maurizio Buonasera Hanno un messaggio per voi Che cosa è successo? Chiedo a mio marito cosa fanno i major a Livorno Music Awards I major sono in gara con la luna sale La luna sale e votateli Votateli perchè questo è un gruppo interessante Molto interessante Si Maurizio Che belli che sono Ti vediamo il collegamento La luna sale è in gara al Livorno Music Awards Ci sarà la luna sale però no vabbè Ci voleva una canzone con la R Quindi abbiamo la luna sale e abbiamo scampata Maria Questa volta la R è andata a fondo E quindi nulla salutiamo Ciao Ciao a tutti